A Pescara si ricorda il più grande flautista del Novecento, Severino Gazzelloni, con questo concorso internazionale. Noi ci occupiamo proprio di riportare in auge il nome del maestro Gazzelloni e attraverso questo concorso cerchiamo nuovi giovani flautisti, nuovi giovani promesse, a cui dare poi una mano, si occuperemo di sostenere il loro talento. Abbiamo avuto una bella partecipazione anche quest'anno, siamo alla sesta edizione, la prima che facciamo a Pescara, abbiamo avuto 100 iscrizioni da 25 paesi, a questo ci inorgoglisce. Diciamo che abbiamo una partecipazione del 70% che viene dall'estero e i ragazzi vengono volentieri perché hanno la certezza che vincendo questo concorso possono avere delle occasioni, delle opportunità che altrimenti non avrebbero. Conservatorio di Pescara che lavora sempre e sempre di più per far crescere e far nascere musicisti. Beh, assolutamente, è il nostro obiettivo, ma non solo questo, il Conservatorio lavora molto per offrire alla città e a tutto il territorio, perché non solo alla città, un importante punto di riferimento dal punto di vista della cultura e della produzione, della produzione artistica, insomma le nostre collaborazioni con tutti gli enti di produzione del territorio, dalla società di concerti, alle ente manifestazioni, al Teatro Marruccino, alla Sinfonica Abruzzese, diciamo, in questi anni sono note ai più attenti.